I due comuni cilentani di Capaccio Pestum e di Piaggini hanno formalizzato un protocollo d'intesa con il quale si intende arricchire la propria offerta turistica e anche valorizzare le risorse territoriali dei due comuni come Pestum ed il Monte Cervati, attrattive che occupano un ruolo di rilievo nel turismo cilentano. Francesco Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum e Guglielmo Vairo, sindaco di Piaggini, hanno siglato questo accordo con lo scopo di avere un rapporto cooperativo fra i due comuni, puntando alla valorizzazione dei rispettivi settori turistici, zootecnici ed enogastronomici. La volontà dei due comuni firmatari dell'accordo è quella di avviare una serie di azioni di valorizzazione del territorio, anche in modalità sinergiche e condivise, mediante l'avvio di attività di marketing territoriale. L'obiettivo fondamentale è quello di valorizzare e accrescere il turismo nel cilento, costiero e montano, attraverso una forte collaborazione fra due comuni centrali per l'ente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.